Queste moto per gente come me hanno rappresentato la storia del motociclismo moderno, sono Suzuki e Yamaha 500. Per intenderci, nell'86, quando fecero esordire Kevin Schwanz, correva su una moto che esteticamente era molto simile a queste di serie, sia nelle forme, poco più. E questo modello è stato poi estremizzato ed è arrivato al suo culmine ad avere 190 cavalli per 130 kg oppure 180 cavalli per 115 kg. Stiamo parlando di rapporti peso-potenza privi dei controlli che ci sono attualmente, che hanno fatto innamorare platee di idoli come gli statunitensi Schwanz, Rene, l'australiano Duan. Di moto argento, oggi come oggi, può stupire il parco moto. C'è una disponibilità di motoveicoli che difficilmente si possono trovare altrove. E in particolare nell'ultimo periodo ci sono moto storiche, moto come questa motocicletta qua, che ha raccontato alla mia generazione, ma dovrebbe continuare a raccontare anche alle generazioni più recenti, un mondo, emozioni, tifo, un tifo per piloti che hanno scritto la storia dei mondiali. Ciao a tutti e se volete fare un tuffo nel passato e riassaporare certe emozioni, qui troverete uno showroom storico che va oltre il commercio moderno. Riuscite a trovare moto che io solo a guardarle faccio dei tuffi nel passato memorabili. Ciao a tutti.